Bentornati a Trame raccontate male. Allora, oggi vi racconto sì, male Gioconda, ma sfido chiunque a raccontarla bene, la trama di quest'opera. Gioconda è un'opera in cui la ormai famosa regola di George Bernard Shaw viene leggermente modificata. Infatti, la soprano vuole sì andare a letto col tenore, ma il tenore non è interessato alla soprano, ma alla mezzo soprano. Il baritone in compenso è sempre in mezzo alle scatole. Ragazzi, la storia è complessa, quindi seguitemi con molta attenzione. Trama! Siamo a Venezia. Barnaba è una spia del governo che, mescolato fra la folla, si finge e canta storie. Barnaba ci prova da tempo con Gioconda, ma lei lo schifa. Al diavol vanne con la tua chitarra, funesta me la tua faccia. È gentile. Ora, è verissimo che... Quando la femmina ti si offre è perviglioso rifiutarla, e la di poi si vendica. Ma anche noi maschietti, se rifiutati, siamo capaci di sano rancore. E fin da subito lo spettatore si rende conto che Barnaba è campione europeo di risentimento. Gioconda si porta sempre dietro la madre cieca, che l'ibrettista pensa di chiamare la cieca. Ci sta. La madre, cieca non nel senso che viene da Praga, si rivolge alla figlia con O raggio della mia pupilla. Per vendetta essendo stato rifiutato, Barnaba accusa la cieca di stregoneria. E la folla, storicamente sempre attenta a un giusto processo, cerca di linciarla. Tentano di proteggere la sua figlia Gioconda e tale Enzo, di cui Gioconda è innamorata ma non ricambiata. Entrano in scena Alvise, un importante nobile veneziano, e sua moglie Laura. Laura riesce a placare la folla e la cieca, per riconoscenza, le dona un rosario che dovrebbe propiziarle buona fortuna. Laura, ancorché appunto sposata con Alvise, è in realtà innamorata di Enzo e ha programmato di fuggire con lui quella notte stessa. Non essendo riuscito il linciaggio della non vedente, Barnaba prova un piano B e applica una variante della proprietà transitiva. Io amo Gioconda, Gioconda non mi ama, ma Gioconda ama Enzo. Se Enzo scappa con Laura, Gioconda ne sarà oltremodo scontenta. Sì, funziona. Dice quindi a Enzo che quella sera stessa gli porterà Laura in modo che possano fuggire insieme. Attenzione a un passaggio. Enzo e Barnaba sono nemici politici e Barnaba potrebbe tranquillamente farlo giustiziare, che come vendetta nei confronti di Gioconda non sarebbe male. E tuttavia pensa che per Gioconda sarà molto più doloroso vedere l'amato che fugge con un'altra e quindi questa soluzione è più efficace, secondo lui, di un martirizzante patibolo. Promette quindi a Enzo aiuto per portargli Laura quella notte stessa, ma siccome è anche un'etica professionale, vi ricordo che di lavoro fa lo spione, avvisa anche il marito di Laura, Alvise, che Laura quella notte scapperà con Enzo. E qui i conti non tornano perché o vuoi che Enzo fugga con Laura per far soffrire Gioconda, in tal caso non avvisi il marito di Laura, oppure vuoi far catturare Enzo e allora non ha senso portargli Laura e rischiare che lei scappi via con lui. Comunque sì, Gioconda di nascosto ha sentito tutto e decide di salire sulla stessa nave. Come d'accordi, Barnaba porta Laura sulla nave di cui Enzo è il comandante. Sulla stessa nave vi ricordo che è nascosta Gioconda. Ci sono 80, 80 marinai più Enzo sulla nave e nessuno la vede. Ora, io direi che sarebbe il momento giusto per tagliare la corda. Invece sti qua stanno lì a raccontarsela, a cantare e ad aspettare non si sa che cosa. Anzi, Enzo si allontana perché deve cambiare lo status su Facebook da single a impegnato con Laura. Quando Laura è sola, Gioconda esce nel nascondiglio con l'idea o di far fuori la rivale o di riconsegnarla al marito che nel frattempo sta arrivando su un'altra nave. Nella colluttazione fra le due, Gioconda vede che Laura ha il rosario che le aveva regalato la cieca e si rende conto di trovarsi davanti alla donna che ha salvato la vita di sua madre. Decide quindi di farla scappare su una piccola barca. Quando Enzo torna, Gioconda gli dice che Laura è tornata per il rimorso dal marito e gli dice una cosa del tipo lei se n'è andata, io sono qui, abbiamo una nave. Ma Enzo non raccoglie l'offerta. All'improvviso vengono cannoneggiati dalle galee veneziane perché sulla nave di Enzo ci sono 80, 80 marinai ma metterne uno di vedetta era una violazione degli accordi sindacali. Non comportava evidentemente invece una violazione degli obblighi sindacali dar fuoco alla sua stessa nave e rischiare di fare una strage del suo equipaggio. La nave si inabissa. Terzo atto, Laura è tornata a casa fischiettando come nulla fosse. Sono tornata, ci stiamo provando. Alvise però non l'ha presa benissimo. Pensi che il tuo ritorno dopo quello che mi hai fatto passare sia un favore che mi fai? E decide di cambiare anche lui lo status su Facebook da sposato a vedovo. Tra i mille modi in cui potrebbe disfarsi della moglie sceglie il più idiota. L'intima, cioè di bere del veleno e se ne va nella stanza a fianco dove c'è in atto una festa. Sicuro che lei lo berrà perché si fida di sua moglie. E qui tocchiamo il punto più basso della narrazione. Nella stanza del palazzo nobiliare non solo spunta fuori dal nulla Gioconda che non era affatto sulla lista. Non basta. Gioconda ha anche con sé un narcotico che simula la morte. D'altronde ai tempi esattamente come oggi era in base l'abitudine di andare in giro con una boccettina o con un narcotico che simulasse una morte apparente. Just in case. E lo dà da bere a Laura. Alvise rientra la trova morta vede la boccettina vuota e chi osa tutto è compiuto vuoto il cristal. un genio. Durante la festa Barnaba accusa la cieca di stregoneria. Ancora? Ma nessuno ci fa caso più di tanto dato che Enzo saputo della morte di Laura si rivela davanti a tutti e viene arrestato. Gioconda a questo punto promette il suo corpo a Barnaba se farà fuggire Enzo. Quarto atto. 18 bovini. Degli amici di Gioconda hanno trafugato il corpo di Laura ancora narcotizzato dalla cripta e meno male che non l'hanno sepolta due metri sottoterra. Gioconda si trova quindi davanti al corpo esanime della rivale in amore e ha il forte istinto di buttarla in laguna e levarsela così dalle ovaie una volta per tutte. E allora cosa l'hai salvata a fare? Potevi lasciarla tranquillamente avvelenare da quell'idiota del marito, no? Arriva Enzo fatto fuggire da Barnaba perché Barnaba è sì il cattivo della storia ma se gli promettono un corpo sa mantenere la parola data. Enzo è disperato perché non sa che la morte di Laura è solo apparente. Gioconda invece che sveraglielo hai fatto tutto sto casino almeno prendite nel merito gli dice che ha rapito la salma di Laura e non gli dice che tra poco si rivesterà. Enzo stravolto dalla profanazione della tomba è lì per ucciderla quando Laura come la bella addormentata nel bosco si sveglia e due riescono finalmente a fuggire insieme. Gioconda resta da sola con due problemi da risolvere trovare la madre che ancorché non vedente è sempre in giro e aspettare che arrivi Barnaba per riscuotere il pattuito e Barnaba arriva. Gioconda il suo corpo gli aveva promesso e il suo corpo gli dà non prima però di essersi trafitta con un pugnale. Barnaba è oltremodo seccato per la mancanza di parole di Gioconda e grida sul suo cadavere che il giorno prima le ha ucciso la madre ecco perché non si riusciva a trovarla. Dopodiché va su Facebook a cambiare il suo status da libero a libero e disilluso dalle donne. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella altrimenti la vostra metà vi intimerà di bere del veleno e poi se ne andrà nella stanza a fianco. Ci vediamo alla prossima trama raccontata male. e poi la vostra metà